oggi descriviamo la pasta e patate di nonna lina vabbè è madre lina perché non c'è la nipote quindi è madre lina soffreggere un poco di cipolla col pomodoro poi tagliare a cubetti a pezzetti le patate farle cuocere con un poco di sedano e sale poi si allunga l'acqua e si butta pasto e questo è tutto una ricetta di 40 minuti è troppo buono i 40 secondi è troppo buono se si vuole si aggiunge un poco di parmigiano a pezzetti poi i fighetti ci mettono la provola che fanno pasta provola così è più a seccosa parmigiano la provola no la provano su quelli fighetti insieme le patate io ci metto un parmigiano a pezzetti basta vabbè vabbè allora questa è la pasta con le patate questo è pasta e patate e vabbè allora noi vi salutiamo la prossima ricetta tra qualche giorno anche più tardi non lo so comunque vabbè va bene saluta ringrazio ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti e dice a quella che fa i programmi di cucina per televisione diglielo che che ti fa un baffo arrivederci arrivederci arrivederci